Questo video è sponsorizzato da Utisource, un'azienda di distribuzione elettronica con un ampissimo catalogo di materiale elettronico. Per darvi un'idea, cercando EEPROM, abbiamo un'infinità di modelli, anche usati per chi necessita di mantenere l'originalità dei dispositivi. Sono disponibili anche datasheet di alcuni modelli. Bella ragazzi, oggi giocheremo a Fortnite su questo Lenovo Ryzen 5, Ryzen 5 e Super Spaccaculi, 336, 15 ARR. Arrivo accendendolo, il led si accende, la batteria è carica, non ci sono né lampeggi dello schermo né segnare video, sembra particolare, non riesco a vedere il lampeggio, se fosse un lampeggio direi che è un BIOS, un problema di EEPROM, ma in realtà no, non appare il piccolo flash, andiamo a aprire. No, ho visto delle linee, potrebbe essere un problema di backlight. Ok, il cliente è andato via, rivediamo un attimo, allora schiaccio, anzi spegniamo anche la luce, schiaccio. Ah si, si vedono tutte delle righe orizzontali, tantissime righe orizzontali, magari riesco a farvele vedere. Ok, acceso, ora posso spegnere. Vedete? Si, ci siamo visti. Eh, dai, comunque questo qua indica, indica che qualche segno di vita c'è. Vi dico che arrivano a un altro negozio, quindi però non mi stupirei che non sia stato fatto nessun tentativo controllo. Ah, sicuro è stato smontato, ci mancherebbe che non sia stato smontato. Oggi ho tre computer in coda, un HP con schermo vuoto, ma suoni un vecchio HP, che ha il suono di avvio di Windows, ma lo schermo è nero. Non c'è neanche il segnale video, nessun tipo, non avrà l'elettrolumidazione, neanche con lo schermo esterno si vede qualcosa. Però arriva al caricamento di Windows. Il Windows non è stata staccata la scheda madre. Vogliamo fare le cose più semplici, via cimosso, via batteria, the freeze, the freeze. Vediamo se si accende. Ah, è stato messo un disco Schifix, uno Schifix. E qua c'è anche una con supporto roto. Dobbiamo accendere. Non si accende, andiamo ad alimentare. E niente, non abbiamo video lo stesso. Andiamo a fare una riflessatura, è probabilmente l'Apple. Quindi non è relativo agli aggiornamenti firmware che invia Microsoft Lenovo, perché questo utente usa Linux. Allora, qua per fare la salzatura mettiamo subito russante. Come sapete usavo l'HF218, siamo tra i maggiori distributori dell'HF218 in tutto il mondo. Costa solo il triplo rispetto in Cina, da noi. Ecco qua, voglio vedere bene nei particolari. Il microscopio che sto usando è stato, e noi vendiamo, li prendiamo usati su eBay, dai negozi che hanno fallito. Siamo i maggiori distributori di questi microscopi nel mondo. Bismuto, mi raccomando. Ah, tra l'altro, siamo i maggiori distributori di Bismuto nel mondo. Per noi cos'è solo il triplo che è su AliExpress. Vedete, così evitiamo di togliere la scheda madre d'agua dal computer al PC. Lasciamo tutto dentro. Abbassiamo la temperatura a 180 gradi circa, in modo da, per un rapido momento, di non avere assolutamente rischi. Quindi le plastiche fondono circa 150 gradi, eh. Siamo leggermente sopra, giustamente. Quindi bisogna comunque fare delle schermature, ma... Nulla di preoccupante. Poi serveremo le parti che si possono fondere, ovvero, ovvero... poca roba. Ora, con questo lamierino... Siamo i rivenditori di questi lamierini, ne vendiamo in tutto il mondo, siamo i maggiori rivenditori di lamierini. Ecco, acquistatevi e spiegiamo lo stesso giorno. Dobbiamo limitare un po' di più l'accesso dell'aria calda alla batteria. C'è ancora un buco che va sul retro della piastra della scheda madre e comunque non voglio correre neanche il rischio per quel piccolo buco. Eccoci. Ora... Eccoci. Eccoci. Perché sto facendo il Bios? Perché è la cosa meno, per modo di dire, intrusiva e più collaudata che si può fare per escludere tutta la parte software del problema. poi dopo si può investire tempo nel cercare altre cause di staccamento della GPU, della CPU, dell'APU questa qua è un computer Ryzen 5 quindi non ha la scheda video dedicata il modello base e quindi è tutto nella scheda video primaria nel processore T5Q64FW e conseguente scrittura sono abbastanza, 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 abbastanza cotto oggi non è un granché come posizione dall'altra parte è decisamente meglio ma tanto per noi è una prova i connettori sono tutti in ordine neanche caldi rimane che far raffreddare un po' e accendere il PC a questo punto scopriremo che in realtà il problema dei BIOS non è provocato dagli aggiornamenti di Windows di una combutta Microsoft o Lenovo ma che sia una cosa che succede per qualche motivo sui Lenovo indifferentemente che usi Windows o Linux c'è Linux abbiamo scoperto una cosa nuova a volo un altro questo qua è un HP Stream roba vecchissima che non vale poco processano i dati dentro questa è una memoria MC 104 giga soldata mi hanno appena portato insieme per la scuola a procedere anche cosa fa la batteria si carica perché mi ha detto che da rossa è diventato bianco quindi la alimentazione va a occhio e croce la cianiera di sinistra è andata e sta chiuso per quello per le viti se schiaccio l'accensione vedete qua abbiamo il leddino schiaccio ora aspetto c'è anche una rottura su questo angolo qui andiamo a vedere togliendo le viti speriamo che poi ci riesca a richiudere in maniera decorosa questi HP Stream ne avevo regalato uno alla mia ragazza anni fa color azzurro metallizzato sono macchine particolarmente indistruttibili perché la scheda madre è ridotta all'osso tutto soldato la scheda è piccola quindi la flessione non è così catastrofica ora vedremo la famosa cianiera guardate lì no cianiera vi faccio vedere sullo schermo guardate sullo schermo qua nell'angolino guardate apro vedete si sta separando mamma mia usare per la scuola è solita chissà che gli rimarrà in mano uno schermo a breve a parte la mancanza dei tasti perché chissà che mai gli studenti succede spesso di perdere i tasti questo mese sono in ritardo nel pubblicare video perché ho avuto casini di ogni tipo nel negozio c'è un bordello disumano c'è della roba marrone che cavolo è raga ma che roba è caccaruola di topo allora innanzitutto vediamo se si tratta di un frizz ecco la cianiera infatti che come immaginavo di sinistra è rotta schiacciamo la batteria batteria cmos non è presente andiamo a ripagarlo anzi andiamo facciamo accendere e sta acceso quindi probabilmente partirà è solo un frizz vediamo un po' si è spento si è riacceso è ripartito voilà cmos reset è un frizz mai successi a quello della mia ragazza non è mai successo sto pensando se fissare un attimo questa cerniera con saldatore un poco possiamo attaccarci alla plastica le due plastiche qua giusto da da tenerlo in posizione fondere le due plastiche che lo tengono e quella sopra questa non è raggiungibile dal saldatore per cui la la togliamo si è visto qualcosa non si è visto niente si è tolto la vite questa qua centrale e adesso andiamo a unire di nuovo questo schiacciamo questo in modo faccia attrito schiacciamo questo e questo terrà la cerniera in posizione mentre lo chiudiamo e poi metteremo della colla termica questo è solo un intervento gratuito che sto facendo perché in realtà bisogna smontare tutto lo schermo e sbloccare i dadi e la gratis tanto si sta aprendo anche dal lato dello schermo quindi c'erano una riparazione provisoria andiamo a mettere colla termica in questa cerniera questa da questo lato stesso discorso quando si parla di combinazioni è appena arrivato un HP Stream azzurrino per una rinstalazione di sistema lo stesso identico che avevo regalato cioè veramente lo stesso modello che avevo regalato alla mia ragazza guardate la combinazione due HP Stream lo stesso giorno e ho dimenticato di farvi vedere comunque ho sparato un po' di colla termica sulla vita mancante montato questo computer poi ci sarà la problematica bisognerà smontare lo schermo sbloccare i dadi tanto prima anche queste rotte quindi ce ne sono e vabbè dovete vi dico si sbloccare i dadi sbloccare i dadi mi stima eh stima ma va a fare un buono computer hp guardate vedete ti piace quello che vedi non è col backlight spento è molto basso molto di dimming bassissimo delle volte alto volte basso non dipende dalla regolazione questa era massima alcune volte è accettabile cambia nel bios stesso discorso e tanto e altro prendendo dei colpi andiamo a smontare vediamo il segnale del backlight che che tensione vedere se il problema della scheda madre diventa alimentare il pannello ma secondo me è colpa del pannello allora ho fatto guardato un video per lo smontaggio comunque bisogna togliere la base ci sono le viti nascoste qua in come altri modelli abbiamo qua le viti di sblocco quindi le agganciate servono per aprire la prima parte dello schermo per separare qui e poi dopo si fa correre l'opener sul fianco faccio un filo cos'è nel 3 cd numero lungo bisogna toglierlo tutto non è mai stato aperto allora abbiamo qua qualcosa che probabilmente è l'inverter che secondo me è il nostro problema chissà se tratta di farsi contatti che spiegherebbe perché ogni tanto funziona ogni tanto no però almeno lo possiamo accendere senza ma se lo dobbiamo comprare una di queste schedine qua da qualcuno che ha distrutto lo schermo abbiamo messo in vendita questi pezzi perché sembrano falsi in qualche maniera anche falsi contatti ok proviamo accendere allora 20 ah vi dico subito la tensione qua presente su sul positivo e 34 volt e come al solito abbiamo invece il negativo delle barre led pilotato in questo cavo che ha quattro segnali e si inietta nel becco del pannello allora quindi ok poi il nero quindi l'altro marrone rosso e combacia con questo gioca bene non è andato da noi prende i tre e questo è davvero il connettore probabilmente l'inverter era in grado di dare no delle tensioni diverse alle barre mentre invece quel pannello lì ne monta solo quindi abbiamo come colori e questi potrebbero essere standardizzati come colori e quindi potrebbe esserci il nero e il rosso come positivo cioè quelli dell'alimentazione il giallo questo qua praticamente il primo pin che questo qui che questo è unito a questo e a questo dal cavo e quando assolutamente è tutti gialli ma quindi quella massa lì sarà un comune di massa per qualcosa è che lui può gestire più pannelli e poi c'è il nero e poi c'è il nero che invece è il positivo non è una mare che è tedesco che questo e poi c'è il marrone che è subito quello a fianco allora sappiamo che questo qua qua c'è cinque volte e non viene usato qua c'è il 34 qua non c'è niente qui mi pare ci sia 1,7 e qua forse 3,3 quindi sul marrone c'è 3,3 e qua 1,7 il che mi fa pensare che questo qua sia il dim che ponendo assieme questi due qua si porta il 3,3 volte su questo si aumenta la tensione però non è detto aumentatore da 30 volte massimi stiamo aumentando leggermente la tensione quindi 34 35 volte che sono presenti qua se possiamo aumentare un po la tensione per vedere se aumenta la luminosità vorrei usare il dremel mi chiedo soring come fa a tagliare ste cavolo di di traccia con una facilità estrema quindi qua andremo attenzione attaccare l'alimentazione finale di un cavo grazie a tutti 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 grazie a tutti